Introduzione a Docker. Ciao, io sono Michele e oggi vediamo da un punto di vista pratico che cos'è Docker, come installarlo e fare le prime operazioni di base. In questo video non ci saranno spiegazioni iper dettagliate su come funziona Docker dietro le quinte, ma proprio un video introduttivo giusto per un inizio per farti incuriosire su che cos'è Docker, ma soprattutto capire perché è diventato così famoso e come è diventato ormai importante in un ciclo di sviluppo soprattutto orientato ai microservizi e alla facilità di applicazione delle tecniche DevOps. Per non perderci troppo in chiacchiere entriamo subito sulla lavagna e mettiamo giù qualche appunto, facciamo qualche disegnetto. Allora, prima di tutto, che cos'è Docker? Lo mettiamo qua, la nostra domanda, che cos'è Docker? Docker è una tecnologia di virtualizzazione. Esattamente, niente di più, niente di meno. Facciamo una bella freccia. Cosa intendiamo? Che cos'è una tecnologia di virtualizzazione? Beh, la virtualizzazione sostanzialmente è un metodo con cui stiamo imbrogliando, stiamo barando. Ma barando in che senso? Beh, i programmi quando girano in un ambiente cosiddetto virtualizzato, beh, loro credono di girare e di essere eseguiti su una CPU vera, su della RAM vera, fisica, su una scheda grafica vera e propria, ma in realtà non è così. La tecnologia di virtualizzazione emula, cioè simula, cioè fa finta che il programma stia girando su una certa CPU, su una certa quantità tipo di RAM e che abbia a disposizione un certo disco fisso, per esempio. Di sicuro hai sentito parlare di macchine virtuali o di sistemi di virtualizzazione come Hyper-V di Microsoft o VMware. Ecco, le tecnologie di virtualizzazione servono per sganciare, per astrarre il concetto di computer fisico e creare quello che è un computer, un ambiente virtuale, dove le cose sono più o meno standard. Inoltre, dove le cose sono configurabili. Noi possiamo simulare di avere un ambiente con una determinata CPU, 2 core, 3 core, 4 core e così via, simulare di avere un ambiente con a disposizione una certa RAM. Quindi gli ambienti virtuali permettono di creare questi imbrogli ai programmi. Le tecnologie di virtualizzazione che hanno creato, per esempio, tutti gli strumenti per creare le macchine virtuali sono andate sostanzialmente per una questione di ottimizzazione di costi e anche facilità di trasportare ambienti da una parte all'altra. Anche Docker, quindi, è una tecnologia di virtualizzazione, cioè serve per creare degli ambienti virtuali o finti, creare questi imbrogli, per i nostri software, per i programmi che noi scriviamo, in maniera tale che possano essere portabili e quindi eseguibili in più ambienti possibili senza difficoltà di installazione, di avvio e così via. Vediamo, prima di tutto, il confronto tra, quindi, le due tecnologie di virtualizzazione più diffuse, Virtual Machine, la mettiamo da una parte e facciamo il confronto con quelle che sono iconi da tecnologia container. Allora, come funziona una tecnologia di virtualizzazione tradizionale di Virtual Machine? Beh, alla base di tutto abbiamo, lo facciamo così con un blocco, abbiamo il server o meglio l'hardware vero e proprio, scriviamo hardware. La stessa cosa ce l'abbiamo nel mondo container. Voglio fare un copia, duplicare l'elemento, eccoci qua. Abbiamo la stessa cosa da entrambi le parti. Abbiamo l'hardware, il CPU, RAM, fisica, disco, effettivamente non c'è storia. Ci servono i componenti veri per far girare i nostri programmi. Però, per quanto riguarda l'ambiente Virtual Machine, che cosa abbiamo? Qui sopra abbiamo un hypervisor. L'hypervisor è un particolare sistema operativo la cui funzionalità è appunto creare tutto il sistema di virtualizzazione, cioè prendere le risorse CPU, RAM, disco e tutto quanto fisiche vere e proprie e renderle virtuali, astrarle per chi emette la disposizione alle macchine virtuali. Andiamo un attimo avanti sulla parte Virtual Machine e abbiamo chi lo mette a disposizione appunto alle macchine virtuali. Allora, una macchina virtuale come è composta? Beh, facciamo per esempio, abbiamo il guest OS, si definisce così il sistema operativo ospite, potrebbe essere in questo caso un Windows in una macchina virtuale, ma nulla ci vieta che nella macchina virtuale successiva che gira sempre all'interno di questo hypervisor abbiamo per esempio un Linux e così via. A questo punto all'interno dei sistemi operativi abbiamo bisogno di magari un set di librerie, un runtime per esempio potrebbe essere la Java Runtime Environment o qualcos'altro, tecnologia .NET. Ok, quindi abbiamo uno stack tecnologico qui, immaginiamo Java per esempio, mettiamo bin o library generiche appunto che rappresentano il nostro stack tecnologico. Ok, ce l'abbiamo anche da questa parte, per esempio, ce l'abbiamo anche nell'altro sistema operativo e poi abbiamo la nostra applicazione vera e propria. Quindi, che ne so, app 1 qui e la metto anche di qua un'altra applicazione, app 2. Quindi abbiamo tutto uno stack tecnologico molto importante a partire dall'hardware, un sistema operativo hypervisor, il sistema operativo che comunque non occupa tantissime risorse ed è necessario per il sistema di virtualizzazione. E poi cominciamo a notare che abbiamo un po' di sprechi, perché per esempio abbiamo un intero sistema operativo che deve stare in piedi, un runtime per fornire l'ambiente di esecuzione alla nostra applicazione e la nostra applicazione vera e propria. Abbiamo la stessa cosa su Linux, abbiamo un intero sistema operativo che deve stare in piedi, un insieme di librerie a supporto della nostra applicazione e di nuovo la nostra applicazione qua sopra. Quindi qui si comincia a intuire che c'è qualche ottimizzazione che si potrebbe fare e il mondo container fornisce tale ottimizzazione. Vediamo come funziona. Allora qui, sopra di un hardware, non abbiamo più l'hypervisor, ma abbiamo un sistema operativo intero, sistema operativo. Questa cosa è fattibile. Se per esempio in ambiente abbiamo, ci sono tecnologie di container sia nel sistema operativo Windows sia nei sistemi operativi Linux. e quindi qui potete pensare a qualunque sistema operativo che venga in mente. Abbiamo un sistema operativo e poi abbiamo il fratello dell'hypervisor. Lo facciamo così, solo che non si chiama più hypervisor, io lo chiamerei container engine. È il motore di esecuzione del container. Quello che fa le veci nel mondo di virtualizzazione tradizionale è quello che crea tutto l'ambiente di virtualizzazione, appunto il motore, l'engine che tiene in piedi tutto il sistema dei container. A questo punto abbiamo queste cose. Abbiamo applicazione 1 e poi abbiamo applicazione 2, applicazione 3, eccetera, eccetera. Che cosa si può notare? Beh, allora, i nostri container sono questi. Coloriamoli di giallo. Mentre le... facciamolo uguale. Mentre le nostre virtual machine, se riesco a selezionare tutto, ce la facciamo. Eccolo qua. Le nostre virtual machine sono così. Mettiamo verde anche... ecco, così è tutto verde. I nostri container sono questi qui. Sono piccolini perché all'interno del nostro... il nostro container viene impacchettato solo con le dipendenze, quindi appunto dicevamo prima l'ambiente Java, no? Per far girare la nostra applicazione e l'applicazione stessa, che è molto più piccolo di quanto riguarda... per quanto riguarda il confronto con le virtual machine, dove per far andare la nostra applicazione viene impacchettata insieme anche all'ambiente di esecuzione, alle sue dipendenze, ma anche all'intero sistema operativo. E quindi anche qui per la P1 c'è di nuovo un intero sistema operativo e così via. Mentre qui, sulla destra, nel mondo container, il sistema operativo è uno solo, che viene condiviso tramite il container engine con... da app 1 e applicazione 2. Ora, da notare che questi due, applicazione 1 e applicazione 2, girano in un contesto isolato, cioè applicazione 1 non sa che esiste applicazione 2 che sta girando all'interno dello stesso ambiente containerizzato. Non lo sa, ok? Allo stesso modo come nelle virtual machine, applicazione 1 non sa che esiste l'applicazione 2 perché è addirittura all'interno di un sistema operativo completamente diverso. Quindi la separazione del contesto qui nell'ambito delle virtual machine è molto forte perché proprio i due applicazioni girano su due virtual machine, quindi due sistemi operativi completamente diversi. Nel mondo container questa separazione esiste, questo isolamento esiste ancora, ma è un pochino più debole. E comunque applicazione 1, in linea generale, non sa che esiste applicazione 2 almeno di bug o errori di sicurezza del container engine che permette ad applicazione 1, un'applicazione malevola, di uscire dal suo ambiente isolato e andare a scuriosare in giro. Però diciamo che siamo su casi veramente limite. Quindi l'ambiente a container ha sicuramente dei vantaggi perché gli oggetti che io devo trasportare sono molto più piccoli. Ho solo l'applicazione e le sue dipendenze, ok? Non mi porto in giro un sistema operativo intero solo per la mia applicazione. Ecco che i container quindi sono più economici perché a parità di hardware io sfrutto meglio la CPU, la RAM e lo spazio disco che ho a disposizione perché non mi porto in giro per esempio un intero sistema operativo ogni volta, ma solo quello che mi serve perché il resto viene preso dal sistema operativo che mi ospita, sempre in maniera isolata. Questa portabilità dei container li rende fantastici perché appunto impacchetto in un solo punto la mia applicazione con le sue dipendenze in maniera molto compatta e li rende fantastici per essere trasportati molto facilmente e si risolve il problema di quello che è il it works on my machine, cioè questo programma funziona solo sul mio ambiente perché un qualunque ambiente metta a disposizione un container engine compatibile con la nostra tecnologia quindi se abbiamo fatto container docker dobbiamo avere un container engine in grado di eseguire i container docker ovviamente chiunque mette a disposizione un ambiente in grado di eseguire i container abbiamo la garanzia che la nostra applicazione si comporti nello stesso modo ovunque noi la installiamo. Sucedeva anche qui ma invece che portare dietro solo l'applicazione come qui ci portavamo dietro un'intera macchina virtuale con il suo sistema operativo e quindi questa tecnologia non poteva essere data in mano ai developer per creare un pacchettino come per dire ok questa è l'applicazione prendila così impacchettata così com'è ed eseguila nel tuo ambiente in produzione perché non si può impacchettare una virtual machine in un ambiente in un modo molto pratico e veloce mentre con i container si può fare il pacchetto è molto più piccolo ed è facilissimo trasportarlo ed eseguirlo in un qualunque ambiente appunto containerizzato. detto questo vediamo come si crea come nasce un container ma per capire come nasce un container dobbiamo parlare di quello che è una immagine quindi mi sposto qui sotto faccio un rettangolo e ci scrivo immagine ok un'immagine sostanzialmente lo possiamo pensare come una ricetta è un di solito un file di testo che descrive staticamente come si deve comporre il nostro container quindi quindi per esempio nella nostra ricetta c'è scritto partiamo da un sistema operativo linux ubuntu 2022 poi diciamo ci copiamo dentro le dipendenze della nostra applicazione la nostra applicazione e fine queste ricette queste istruzioni che compongono la ricetta in ambito docker sono racchiuse in quello che si chiama un docker file questo docker file viene letto interpretato la nostra immagine viene creata e viene poi quindi messa a disposizione per essere riutilizzata viene creata nel nostro ambiente containerizzato quindi se esegui questi comandi se fai la build si dice del docker file nel tuo computer l'immagine viene creata nel tuo computer che poi può essere pubblicata e messa a disposizione di altri lo vediamo dopo allora abbiamo un docker file abbiamo una ricetta che descrive come è il nostro come deve essere impacchettata la nostra applicazione quando un'immagine viene presa e le viene dato vita all'interno di un ambiente containerizzato tipo qui allora diventa un container quindi l'immagine la ricetta si trasforma qui in un prende vita in un container è come dire una classe in un linguaggio in una programmazione orientata agli oggetti e il container il container è un'istanza della classe quindi un container è un'istanza di un'immagine quando io creo un'immagine le do un nome e poi in questa maniera posso anche prenderla e pubblicarla in quelli che sono i cosiddetti repository di immagini il più famoso è il docker hub lo scriviamo qui docker hub è un registry che per esempio è gratuito mi pare per uso personale didattico di studio o progetti open source adesso non mi ricordo benissimo il pricing comunque chiunque si può iscrivere è ad avere il proprio registry dove pubblicare e salvare le proprie immagini in maniera tale che chiunque le volesse utilizzare in caso di un se crei un registry un account pubblico pubblico un'immagine disponibile a chiunque oppure puoi anche creare delle immagini private accessibili solo tramite autenticazione quindi ricapitoliamo prima di vedere come si installa docker nel nostro nel nostro computer abbiamo detto che passi importanti docker è una tecnologia di virtualizzazione che permette di contenere i costi rispetto al sistema di virtual machine tradizionale perché ha un migliore utilizzo di quelle che sono le risorse fisiche mette a disposizione degli strumenti per impacchettare le nostre applicazioni in maniera molto più leggera e così sono più facili da far partire e da distribuire in ambienti standardizzati risolvendo tra le altre cose il problema del it works on my machine funziona solo nella mia macchina dove l'ho sviluppato e testato vediamo come si installa quindi docker dal sito ufficiale e poi facciamo degli esempi base allora per installare docker andiamo su docker.com e già dalla home page c'è il pulsante per scaricare la versione di docker desktop che è quello appunto per dedicato ai developer per fare l'attività di sviluppo build delle immagini push eccetera sul proprio pc per windows, apple, mac e linux quindi scegli la versione che più ti interessa per windows l'esperienza di installazione è un avanti 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 è il classico wizard mentre per qui nella documentazione su docks.docker.com desktop install puoi trovare le varie istruzioni in base al tuo sistema operativo per quanto riguarda la versione per windows ti consiglio di seguire le istruzioni per il back-end vsl2 vsl2 sta per windows subsystem for linux versione 2 ed è sostanzialmente un kernel di linux integrato dentro windows con un eccezionale con eccezionali performance rispetto hyper v quindi sostanzialmente non c'è una virtualizzazione ma proprio un vero e proprio kernel di linux che vive a fianco e interagisce con il sistema operativo windows è una tecnologia bellissima quindi ti consiglio di seguire se sei in ambiente windows questa tecnologia perché per quanto ci siano anche molti container windows la tecnologia di containerizzazione dà il massimo nel mondo linux e quindi i container che andiamo ad eseguire saranno container linux e non container che si basano su immagini windows quindi una volta scaricato l'installer l'esperienza che otteniamo è questa ecco una volta installato la parte qui ho dei container che voglio uccidere non mi interessa partiamo di ambiente pulito ecco una volta che hai docker desktop installato vedrai una cosa di questo tipo dove vediamo appunto i container in esecuzione abbiamo capito che i container sono le immagini le istanze delle immagini ci sono anche degli esempi con delle immagini le immagini più comuni qui ci sono vengono elencate le immagini scaricate nel proprio pc perché quando si fanno i vari comandi e così via le immagini vengono scaricate in locale la gestione dei volumi concetto per dati persistenti e altre funzionalità ti faccio vedere che nelle impostazioni io ho attivato appunto la versione basata su vsl2 rispetto che appunto fornisce migliori prestazioni rispetto alla tecnologia hyper v ecco quindi una volta che hai docker desktop che funziona puoi aprire una qualunque riga di comando io aprioro windows terminal con powershell e se scrivi docker vedrai che parte eccolo qua ti viene dato l'help su tutti i comandi e quindi è correttamente installato io ho vediamo la versione 20.17 all'omento di questa registrazione forse non è l'ultimissima ma va bene così ok detto questo torniamo subito operativi e facciamo un esempio proprio per dimostrare la facilità con cui con docker posso eseguire una qualunque applicazione che è stata containerizzata nel giro di pochi secondi in qualunque ambiente anche in un ambiente di sviluppo come questo con docker desktop la dimostrazione che ti voglio fare è quella di aprire un'applicazione web e navigarla direttamente con una singola istruzione allora parecchio tempo fa per prendere un giro un po' degli amici ho creato una stupidissima applicazione web intitolata devops è un sito web non è altro che una home page ok e la facciamo partire la faremo partire in formato container qui e la navigheremo come facciamo? beh allora andiamo sul mio repository l'ho pubblicata sul mio repository docker che vedi in questo indirizzo e creiamo facciamo un comando di docker run per eseguirla direttamente allora mi prendo il comando lo prendo vado da tags mi prendo l'ultima versione mi prendo la latest così copio e vediamo che io sto copiando un docker pool il comando pool scarica un'immagine in locale dal repository in cloud al locale quindi docker pool fenixita devops latest questo è il nome del mio repository fenixita devops questo è il mio account e questa è l'ultima versione la latest ok essendo un'applicazione web che io ho sviluppato e la conosco posso fare docker run quindi eseguo un'immagine che mi diventerà quindi un container con un paio un'opzione a dire avere una sola meno p voglio configurare le porte il port forwarding cioè che cosa faccio? dico che la porta 8080 del mio pc fisico viene inoltrata nella porta 80 del container virtualizzato perché io so che in ascolto l'ho fatta io sulla porta 80 c'è la mia applicazione web che mi risponderà poi dato questi parametri dico l'immagine che voglio eseguire quindi era fenixita bar devops due punti latest a questo punto vedete il container vedi come il container parte veramente in tipo un secondo a questo punto posso aprire il browser apro una nuova scheda faccio localhost due punti 8080 ed ecco che mi viene servita la mia applicazione web e la riconosco come faccio ad essere sicuro essere sicuro che sia proprio lui e non sto imbrogliando beh semplicemente se io vado ad uccidere questa istanza faccio f5 ecco che l'applicazione smette di rispondere tant'è che se io apro il docker desktop c'è la mia immagine ok che è stata eseguita su un container che aveva questo id e questo nome generato in maniera casuale si può anche forzare che esponeva la porta 80 che è uscita perché ho ucciso il processo eventualmente posso anche farlo ripartire ok e in un attimo è venuto su faccio f5 e di nuovo la mia applicazione torna viva ecco quindi oppure posso stoppare questo sarebbe un docker stop a questo punto di nuovo smette di rispondere con gli f5 e posso poi uccidere il container liberando memoria ok l'immagine invece facendo andando qui a consultare le immagini faccio un filtro fenix it devops ok eccola qui è l'immagine che abbiamo scaricato prima e c'è ancora perché l'immagine è rimasta nel mio pc ho semplicemente ucciso i container che si erano stati generati da questa immagine e lo posso vedere anche con docker image ok ls dimenticavo docker image ls quindi faccio la lista delle immagini docker che ho nel mio pc bene per oggi con docker ci fermiamo qui e anche il magico mondo dei container abbiamo visto tantissimi concetti abbiamo visto l'architettura di base di questo nuovo sistema di virtualizzazione chiamato containerizzazione che docker ha reso così popolare e facile da utilizzare abbiamo visto che cosa sono i concetti di immagini container e di docker registri per pubblicare le nostre immagini abbiamo installato docker desktop e abbiamo eseguito un'applicazione web con una riga di codice veramente veramente potente e a questo punto ci fermiamo qui io ti saluto se questo video ti è piaciuto o hai imparato qualcosa metti un mi piace e iscriviti al canale così sarai notificato sui nuovi aggiornamenti ciao ciao